Scatterà anche ad Arezzo dal 2018 la tassa di soggiorno. Il tributo ovviamente interesserà unicamente i turisti che pernotteranno ad Arezzo e si attesterà attorno ad 1,50 euro. Le risorse che confluiranno nelle casse comunali saranno utilizzate per investimenti sul settore turistico. Il decreto legge numero 50 ha comunque derogato la tassa di soggiorno dal blocco delle famose tasse locali. Ovviamente non possiamo inserirla subito anche perché comunque ha dei tempi abbastanza lunghi sia per adeguare tutte le strutture che dovranno poi fare da gente contabile praticamente per il Comune sia anche perché è giusto avere un margine di tempo tale da poter confermare magari gruppi, tutte le persone che comunque avevano già prenotato. Quindi l'idea è quella a questo punto di farla entrare dal primo di gennaio 2018 nella speranza che nel frattempo il Comune, lo Stato non ricambi idea nuovamente. Ovviamente sono ormai risorse che da un lato il turista ha digerito, anche se poi tutti noi non siamo ovviamente mai contenti di pagare qualcosa in più, però di fatto la cosa importante è che poche sono risorse veramente investite nel turismo. Quindi questo processo da qui a gennaio servirà proprio a questo. Stiamo lavorando alla creazione di un ente sul turismo che sarà molto probabilmente una fondazione che sarà del Comune di Arezzo ma che sarà aperta a tutti, quindi ad altri enti pubblici, privati e anche ad altri comuni, che avrà proprio il compito di prendere questi soldi da tassa di soggiorno, trovarne degli altri, quindi sia sotto forma di finanziamenti ma anche proprio come attività. Arezzo in Tur potrebbe essere il nome dell'ente che si occuperà di gestire il gettito della tassa di soggiorno. Gioca sulla parola in Tur ma che sta per Innovation in Turismo perché l'obiettivo sarà quello di creare un ADMO, una società, un ente del turismo che lavora in modo subito innovativo, quindi con tutte le forme oggi di marketing e comunicazione innovativa, che però ovviamente non è poi il nome del brand turistico, che la fondazione avrà tra i compiti che sarà la prima cosa che dovrà fare, quindi creare un brand turistico, creare tutto quello che è il marketing e la comunicazione intorno a questo brand e poi andare a vendere il nostro territorio.